La quantità degli investimenti è calata, i mercati sono un po' saliti ed a mio parere si sono portati un pochino avanti, forse troppo, per cui ci vedo ancora degli spazi di manovra per altri ingressi. Con questa premessa mi sono lasciato un po' di liquidità da parte ed ho fatto degli ingressi molto conservativi. Ed oggi ti faccio partecipe dell'aggiornamento del mio portafoglio e dei nuovi acquisti fatti a marzo 2023. Ben tornato, in aggiunta ai soliti aggiornamenti portafoglio per portafoglio oggi vi mostro anche in maniera molto schematica, graficamente, come sono diversificati i miei investimenti e quali acquisti ho fatto a marzo. Se sei curioso per cui a tutti questi dati resta con me fino alla fine. In totale le percentuali dei miei asset sono così schematizzabili. La porzione più grande è occupata dal mio portafoglio di investimenti, che al momento è totalmente sulla piattaforma BG Saxo e che prende il 55.60% di tutti i miei asset. Il secondo asset più ampio è il fondo di emergenza che è quasi al 15% assieme a quasi un 14.50% di liquidità pronta per essere investita. Poi quasi al 10% il pack che sto creando per mio figlio e a seguire gli altri investimenti o piani di risparmio che occupano una parte trascurabile degli asset totali. Se volete comunque approfondire mettete il video in pausa. Ricordo che il pack di mio figlio è creato totalmente con la funzione pack in etf di diretta. Link in descrizione sull'etf Lixor MSCI World ad accumulazione con il ticker WLDC. Prima di andare a guardare il mio portafoglio nel dettaglio penso possa essere di vostro interesse anche sapere quali acquisti ho fatto a marzo perché due soltini li ho messi in circolo. Per la precisione a marzo di quest'anno 2023 ho aperto 3 nuove posizioni e una è quella che invece ho incrementato. Le nuove posizioni sono queste. Ho acquistato 15 azioni di realty income col ticker O con un prezzo medio di carico di 59.53 dollari. Poi così come ho dichiarato nel video apposito che vi lascio qui in alto 112 azioni di terna rete elettrica italiana col ticker TRN con un prezzo medio di carico di 7,33 euro. Poi con il ticker USDV ho comprato 25 azioni dell'etf Spider US Dividend Aristocrats con un prezzo medio di carico di 60,40 euro. Per quanto riguarda la posizione consolidata invece ho comprato 45 nuove quote dello Spider Global Dividend Aristocrats col ticker GLDV a un prezzo medio di carico di 27,265 euro. Questo porta la mia posizione totale su questo etf a 118 quote con un prezzo medio di carico totale di 29,67 euro. A questo punto come è composto percentualmente il mio portafoglio? Per il 73.31% è composto da etf ma andiamo nel dettaglio di ogni etf e ogni azione a breve. Poi abbiamo un 11,5% di azioni singole e quasi un 15,6% di liquidità. Come accennavo prima i segnali sono contrastanti a mio parere vista la salita improvvisa degli scorsi giorni e preferisco perdermi qualche punto percentuale di guadagno piuttosto che non poter mediare a ribasso. La liquidità sta lì pronta in canna da essere utilizzata al meglio. Ma quali etf o azioni sono presenti nel mio portafoglio attuale? Tutto molto diverso da quando ho ripreso in mano dopo il mio rientro d'Italia ma soprattutto dopo le varie problematiche economiche che ho avuto e che ben conoscete se avete seguito il canale. Sto cercando di riportare tutto al concetto di semplicità con poche posizioni ma molto concentrate. Anche per questo motivo la mia scelta è di dare molto peso agli etf rispetto alle singole azioni ma attenzione nella mia voce list ce ne sono pronte alcune ad essere acquistate. Per le azioni abbiamo Realty Income con un 5.42% e Terna con un 5.65%. Queste sono due aziende che se non cambieranno negli anni la loro capacità di produrre profitti e performance saranno in termini percentuali molto presenti nel mio futuro. Per quanto riguarda gli etf, USDV, lo Spider US Dividend Aristocrats occupa il 10.18%. Queste prime tre posizioni sono nelle nuove citate poco fa. Però passiamo al resto. ETF Invesco Fuzzi Emerging Market Low Volatility col ticker EMHD che occupa il 10.34% e con questo prodotto mi sono piazzato sui mercati emergenti. ETF iShares Dow Jones Asia Pacific Selected Dividend col ticker IAPD che occupa il 16.73% e con questo prodotto mi sono piazzato nelle zone di Giappone, Nuova Zelanda, Australia, Hong Kong e altri piccoli paesini o isolette di quell'area pacifica. ETF iShares Stocks Global Select Dividend 100 col ticker ISPA che occupa il 14.43% e con questo prodotto mi sono andato a piazzare sulle 100 azioni che, dall'indice Global Stock 1800, pagano i dividendi più alti. Un prodotto più da yield che non da capital gain sinceramente ma che va a completare comunque un quadro dei dividendi. ETF Spyder S&P Global Dividend Aristocrats col ticker GLDP che occupa il 21.64% e con il quale mi piazzo sulle dividend aristocrats con stampo meno americano centro e con un più ampio respiro. Ci saranno sicuramente delle duplicazioni di posizioni ma non nelle prime degli ETF. Se andate a guardare i 5 ETF raramente vedrete che le prime 10 posizioni di uno si trovano anche in un altro. DTF per completare un portafoglio ce ne mancano un paio all'appello. Le vorrei aggiungere uno settoriale e uno sui RITs ma ne parliamo non appena sono in grado di aggiungere così da farlo anche con il giusto contesto. Per quanto riguarda questo mese appena conclusi non ho da segnalare nessuna opzione in quanto visto che non lavoro più ho voluto ridurre il rischio delle mie operazioni portandomi su linee più conservative e meno volatili. Vedi quello che è successo a Medical Property Trust e lavorare solo su strategie appunto più conservative fino a quando il tutto non si vada ad apparare nella mia vita professionale. Ricordandoci che questi non sono consigli a investire o a non investire ma solo spunti per scopo didattico e di approfondimento in ogni caso se questo contenuto ha portato valore aggiuntivo alla tua conoscenza fammi capire il tuo gradimento con un bel pollice in su. Se invece mi hai appena conosciuto potrebbe essere una buona anzi un'ottima idea cominciare a fare parte di questa community con una maggiore presenza la tua iscrivendoti al canale e cliccando la campanella delle notifiche. Al prossimo video!